È un bilancio sicuramente positivo, anche se dobbiamo ovviamente migliorare perché dobbiamo avvicinarci alla prestigiosa e superarla, però nel complesso positivo. Uno dei tanti aspetti positivi è comunque la competenza del gruppo e la voglia sempre di non mollare mai. Qualcosa da migliorare è tutto, insomma, c'è sempre da migliorare, non c'è una cosa in particolare. La nostra del comunale è fondamentale, poi successivamente guarderemo anche Foligno Pistoyese. C'è Bianchini che torna, tu l'hai conosciuto, sarà un ex Domenica, c'è qualcosa che vuoi dirgli adesso sfruttando la televisione? No, con Lorenzo io ero in casa con lui l'anno scorso, quindi ho avuto un buon rapporto e ci vedremo da avversario di Domenica. Ma nel senso, da Emilio sicuramente, anche perché veniva da Lega Pro, quindi è un giocatore molto forte, che ha sempre segnato. Personalmente non mi do un giudizio, me lo date voi, ma l'allenatore... Però sei soddisfatto? Vediamo domenica. Grazie.